Diventa ogni giorno più difficile la vita dei sindaci, loro ci provano in tutti i modi a far tornare i conti garantendo i servizi ai cittadini. Non c'è sicurezza sui bilanci, sulle possibilità di affrontare delle spese, sul fatto che la regione ti possa più o meno aiutare. Mille difficoltà devono affrontare oggi i sindaci. Ecco dunque la protesta dell'Anci, Associazione Nazionale Comuni Italiani, dimissioni in massa dei sindaci il 29 di questo mese. È il patto di stabilità a bloccare l'attività degli enti, ma non è questa la strada per chi da primo cittadino è sulle barricate da tempo. Io preferisco i sindaci che propongono a quelli che protestano. Non trovo che dimettersi sia né una minaccia credibile né tantomeno una cosa attuabile. Viviamo un momento difficile, i nostri cittadini hanno bisogno di riferimenti, il sindaco è il primo riferimento sul territorio, si devono dimettere quei parlamentari che hanno deciso per il patto di stabilità. Queste le richieste dei sindaci, no al patto di stabilità, che a breve riguarderà anche i comuni con meno di 5.000 abitanti. L'Imu nel 2013 resti interamente nelle casse comunali e poi basta con i tagli. In Cadore c'è anche chi approva la protesta. Una protesta ci sta sicuramente perché chi ha la possibilità di pagare, di spendere, non lo può fare per il patto di stabilità. E questo è un aggravare la situazione anche nei confronti delle imprese che non possono ricevere i giusti compensi per i lavori che hanno fatto e nei confronti anche dell'amministrazione pubblica che non può programmare altri lavori sapendo di non poter uscire dal patto di stabilità. Grazie.